Prezioso Casa ha organizzato presso il punto vendita di Salerno lo show cooking di Francesco Acqui, la chef e vincitore della decima edizione del talent culinario Masterchef. La simpatia e la bravura lo hanno consagrato al grande pubblico per empatia e grande umiltà. Ed è chiaro che sono state le sue carte vincenti. Un tripudio di fan e curiosi hanno accolto l'invito del centro arredamenti numero uno in Europa e hanno avuto la possibilità di incontrare dal vivo uno dei beniamini del piccolo schermo conosciuto a livello nazionale. Lo chef Aquila è stato voluto fortemente da Prezioso Casa in collaborazione con Cosentino Italia. La soddisfazione nelle parole del direttore marketing Pino Valito, che ha sottolineato quanto la presenza dello chef Cugliese non sia che l'ennesimo attestato di stima e affetto verso la clientela. Da anni coccolate al centro di ogni iniziativa, non soltanto dal punto di vista della qualità degli arredi proposti, ma anche e soprattutto dall'accoglienza nei punti vendita e negli eventi promozionali. Dopo lo show cooking, Francesco Aquila si è fermato con gli spettatori, selfie, autografi e tanti gadget a tutti i presenti. Ha archiviato questo ennesimo successo, Prezioso Casa si prepara agli eventi autunnali, da quelli dedicati ai futuri sposi e non solo, all'imminente apertura di un nuovo punto vendita a Napoli. Non una vera e propria vetrina, ma uno sguardo al futuro che porterà l'azienda diretta da Gaetano Ambrosca a coprire per intero il territorio campano. La nostra strategia di comunicazione è quella di coinvolgere il cliente oltre l'acquisto, ecco perché è una serie di eventi, Aquila è uno dei tanti, abbiamo già negli anni scorsi ospitato Barbieri, Borghese, Ruggiati e coinvolgere il cliente per farlo sentire ancora di più parte di questa famiglia, che è quella del gruppo Prezioso. Aquila ci rappresenta perché rappresenta l'estro, rappresenta la creatività, il made in Italy e anche la qualità del prodotto, ecco perché questa sera con lui ci divertiremo, assaggeremo questa rivisitazione di piatti tipici della Campania. Per noi non è una novità rispetto alla solita strategia perché abbiamo da sempre puntato sulla qualità del prodotto e quindi rigorosamente made in Italy, così come sulla qualità della consulenza, con i nostri 40 architetti interior design nei nostri store e l'assistenza, il servizio che ci fa fare la differenza. Integrato con chiaramente la possibilità di promozioni, di scontistiche privilegiate, tutto questo serve per creare delle condizioni d'acquisto straordinarie e rinunciabili per i nostri clienti, per quelli che scelgono Prezioso Casa. Noi proprio questo store il prossimo 7-8 ottobre compie gli anni, il quarto anno, per cui ci sarà una grande festa, i Bird Day, una promozione con il 40% di sconto su tutti i prodotti da progettare e poi ci sono i Wedding Days ad inizio novembre e sono invece una promozione oramai consolidata di quelle che propone Prezioso Casa con addirittura ben 16 promozioni, tutte accumulabili fra di loro. C'è una novità molto importante che è la nascita del nostro primo flagship nella centralissima Piazza Vittoria di Napoli e quindi fa parte di un processo di crescita molto importante dell'azienda che prevede nei prossimi anni apertura di store in tutto il centro e il sud Italia. È sicuramente uno spazio molto di rappresentanza, importante, una vetrina fondamentale. Immaginatelo come un manifesto di design. in 400 metri quadri con i nostri architetti diremo, è come un manifesto in movimento, diremo che cosa rappresenta Prezioso, che cosa propone, cosa offre la consulenza di Prezioso Casa.